Ciao a tutti ragazzi, oggi ho il risultato di assaggiare questa cosa che mai non ho assaggiato una perganda da Germania Aspetta, c'è un po' ora Oh, ce l'ho fatta Aspetta, non me la faccio E' ora di togliersi il pigiama Al posto dell'armadio ci sono i gradini della piscina Cos'è indossare? Una manchetta e dei pantaloccini a prendo me La trovate qua in Germania, se siete in Germania Lasciate un pollice in su E lo comprate E vabbè, che ne so che dico io Da oggi ho iniziato a fare un vlog Ok, non mi è cacciato il resto Adesso facciamo queste patatine Spero in prossimo video Ciao Iscrivetevi al canale Un pollice in su La campanella Ding dong Espoter è la campanella Che ne so io Come disco Vabbè, ciao